Allora, benvenuti a questa tavola rotonda sull'alimentazione infantile. Questa tavola rotonda è organizzata dalla Sissa di Trieste nell'ambito del progetto Comiar. Comiar è un progetto che si occupa di fare comunicazione sui vecchi e nuovi media dei progetti europei dedicati alla ricerca e alla medicina. Di progetti europei, vedrete, ne incontreremo anche oggi negli interventi dei nostri ospiti che sono diversi e molto interessanti. Parleremo, come è ovvio dal titolo, di alimentazione e di salute nell'infanzia. Cercheremo di farlo da prospettive non troppo scontate. Sentirete che gli spunti saranno veramente interessanti e serviranno anche a capire la complessità della questione alimentazione, che non è soltanto mangiare bene. Vi faccio una brevissima panoramica degli interventi e dei contenuti degli interventi che avremo. Cominceremo parlando di futuro, di dove sta andando la ricerca europea in campo pediatrico e quali sono le questioni aperte in questo campo anche nel settore alimentazione. Ci occuperemo poi del grande tema che riguarda l'alimentazione, che è quello dell'obesità, come costruire un futuro migliore ai bambini, ai nostri bambini, costruire il futuro mangiando, un percorso che comincia sin dalle primissime fasi della vita. Parleremo poi di un tema non troppo noto, almeno a me non era affatto noto, quello di come il cibo condiziona la nostra salute, sin anche questo dalle prime fasi dello sviluppo, dai primi mesi di vita, e il legame tra l'alimentazione e lo sviluppo di specifiche patologie. In particolare parleremo della celiachia, del norbo di Crohn e dell'allergia. Parleremo poi di genetica e ambiente, anche queste legate a fattori quali la malattia come l'obesità o le sindrome metaboliche, capiremo anche che cosa sono le sindrome metaboliche. E infine ci occuperemo di un tema vagamente meno centrato sulla limitazione, ma in realtà molto centrato sul tema salute, che è quello dei farmaci pediatrici. È un tema molto interessante anche perché ci sono molte questioni aperte riguardo ai farmaci pediatrici in termini di somministrazione, dosi, sperimentazione, e c'è molto da fare. C'è un progetto europeo di cui sentiremo parlare, che è dedicato proprio a questo. Gli ospiti me li presento uno ad uno, man mano che si adiranno sul palco. Cominciamo subito con il primo, che è il professor Giorgio Tamburlini. Faccio un breve riassunto della sua biografia, che è pediatra, epidemiologo, che è già direttore scientifico dell'ospedale Triestino Burlo Garofolo. Lui ci parlerà in particolare di un progetto che si chiama RICCI, e da qui poi partirà la sua presentazione, priorità nella ricerca pediatrica in Europa. Quello che vi dicevo prima, dove sta andando la ricerca e dove andrà, e quali saranno le grosse questioni che dovremo affrontare, e che la ricerca dovrà affrontare nel prossimo periodo. Grazie, grazie l'opportunità, forse soprattutto, di dialogare fra noi, perché poi ho l'impressione che impareremo noi stessi da quello che gli altri ci racconteranno. Allora, questo logo che vedete in alto, con questi due simpatici signori rossi e blu, titolo di un bel film che sta girando a Trieste, e questo acronimo sta per Research Inventory of Child Health in Europe, e sostanzialmente si propone di fare, di mettere assieme il compendio di tutto quello che è stato fatto, che viene fatto, e cosa forse più interessante e difficile di quello che dovrebbe essere fatto, nella ricerca sulla salute dei bambini in Europa. È un progetto molto complesso, a cui collaborano istituzioni, enti e gruppi di ricerca di molti paesi, quasi tutti i paesi europei. L'Italia è rappresentata, oltre che dal burlo garofalo, in questo caso, è rappresentato da, sottoscritto da Laura Kogoi, che è una giovane ricercatrice, e anche dal gruppo del Besta, che, come forse non tutti sanno, è un istituto scientifico, quindi analogo al burlo garofalo, che si occupa in particolare di neuroscienze, e di neuroscienza applicata a condizioni non solo infantili, ma anche dell'adulta e dell'anziano. Oggi penso che potrebbe essere per voi interessante, soprattutto, sentire qualcosa sulle implicazioni future di quella che è stata questa specie di compendio sulla ricerca pediatrica attuale, e inizierei da questo grafico. Allora, vedete che questo grafico rappresenta fondamentalmente, vedete, l'evoluzione del tempo e poi il previsto aumento della temperatura secondo i diversi scenari. Questi scenari diversi hanno, come vedete, a partire praticamente da dove è la freccia, cioè da oggi, hanno delle evoluzioni diverse, a seconda di come vanno le emissioni di CO2, le varie variabili che contribuiscono a definire quello che è lo scenario principale del cambiamento climatico, che quindi ha diverse opzioni. Come vedete ce n'è una più ottimistica, in giallo, la più bassa, che prevede un aumento della temperatura molto, molto contenuto, e poi ce ne sono delle altre, blu, verdi e rosse, che sono progressivamente più pessimistiche e, aggiungo io, abbastanza catastrofiche per quelle che saranno le implicazioni sul piano ambientale, sociale, della nutrizione, tra l'altro, e così via. Allora, che interesse hanno queste opzioni sugli scenari futuri? L'interesse, evidentemente, è che queste costruzioni, che sono costruzioni, diciamo, concettualmente complesse, che derivano dall'interpretazione di trend attuali e dalle interpretazioni causali che noi diamo fra alcuni fattori, l'evoluzione di questi fattori e il cambiamento climatico, vengono fatte perché si ritiene che in questo modo si possano orientare delle scelte. Cioè, se noi vediamo il futuro, cerchiamo di anticiparlo, possiamo essere in grado di fare delle scelte più oculate. e questo riguarda anche la nostra vita personale, il fatto di fare o non fare un investimento, e così via. Allora, a questo tipo di ragionamento ci siamo ispirati, in particolare nel lavoro che ho fatto assieme a Laura, per cercare di capire quali potranno essere gli scenari futuri della situazione riguardante la salute dei bambini. Allora, questo secondo grafico che vedete traccia una serie di righe che vanno verso il basso, queste righe che vanno verso il basso rappresentano l'evoluzione della mortalità dei bambini e dei adolescenti e preadolescenti, quindi a 0-14 anni, in una serie di paesi europei che poi sono fondamentalmente i paesi, diciamo, della prima versione, prima seconda versione della comunità europea. Come vedete, questo grafico va omogeneamente verso il basso, il che significa che la mortalità in queste fasce d'età è prevista, cioè è attualmente in diminuzione, lo è stata in tutti questi anni. Quindi se noi proseguissimo il grafico verso, diciamo, a monte, nelle decadi passate vedremo che il calo è ancora più accentuato. Come facciamo a stabilire se questi trend che abbiamo visto sono destinati a mantenersi oppure ci sarà qualche cambiamento? Allora, per fare questo dobbiamo fare una serie di operazioni. Una è quella di analizzare gli attuali trend per vedere se, non so, ad esempio alcune delle grosse componenti di rischio sulla salute del bambino, sul basso peso, la nascita, piuttosto che appunto il sovrappeso, tante altre cose, sono in aumento o in diminuzione, perché questo ovviamente costituendo un fattore di rischio può influenzare poi anche la mortalità e quando non la mortalità può influenzare la qualità di vita e l'insorgenza animatica. Poi ci sono ovviamente le nostre conoscenze che possono evolvere sul rapporto causale che c'è fra certi fattori e gli esiti di salute, per cui possiamo meglio capire che l'evoluzione positiva o negativa di un fattore può portare a delle conseguenze più o meno importanti sul piano della salute ed esattamente su quali. Credo che più avanti in questo dibattito avrete degli esempi abbastanza concreti. Poi dobbiamo tenere conto dell'evoluzione tecnologica e anche di questo si parlerà dopo quando parleremo di farmaci. Abbiamo una serie di avanzamenti nel campo diagnostico-terapeutico e abbiamo una continua ricerca di nuove tecnologie che potrebbero, come è stato in parte e in passato, influenzare il corso della salute della popolazione o perlomeno di alcuni gruppi di popolazione che vanno incontro a specifici problemi. Infine, last but not least, come si dice, c'è l'aspetto delle politiche attuate sia in sede europea che in sede di governi nazionali, perché queste politiche in campo non solo sanitario, direi non tanto sanitario, ma in campo sociale e economico possono influenzare quelli che sono appunto i fattori che poi determinano lo stato di salute. Quindi si tratta di mettere assieme tutte queste informazioni, vedere come vanno questi vari trend e da quelli cercare di capire quali potrebbero essere i scenari futuri. Adesso, diciamo molto semplicemente, vado alla parte che illustra alcune cose principali di questi trend. Noi abbiamo una mortalità che diminuisce, ma non necessariamente un numero minore di persone malate, anzi, siccome la sopravvivenza per molte condizioni, grazie all'avanzamento diagnostico e terapeutico, diminuisce, quindi ci sono più persone malate in vita, poi abbiamo, e questo è abbastanza importante, un aumento di condizioni di rischio, una di queste è il basso peso, la mascita o la prematurità, che sono un fattore di rischio con una serie di condizioni che insorgono sia durante l'infanzia che durante la vita adulta. Abbiamo l'aumento del sovrappeso dell'obesità, e noi sappiamo già oggi, qualcuno lo dirà probabilmente meglio dopo, che tutta quella corte, cioè quella parte, quella generazione, che è passata attraverso la sua infanzia, attraverso un carico maggiore di sovrappeso, ha una serie di rischi maggiori per quanto riguarda la salute nell'età successive. E poi abbiamo anche un aumento di alcune altre situazioni e gruppi di malattie, ne cito solo due, sono abbastanza importanti, una sono il cancro dei bambini, quindi in particolare leucemie e linfomi, che sta subendo un aumento lento, ma abbastanza inesorabile, perlomeno fino a due o tre anni fa, in tutti i paesi europei, aumento di cui sarebbe interessante discutere, quali possono essere le cause possibili, ma per il momento lo mettiamo fra parentesi. E l'altro aspetto, forse il più preoccupante di tutti, è un aumento di quelle condizioni che possiamo raggruppare, anche se sono molto eterogenee, sotto l'addizione, diciamo, di disturbi di salute mentale, in cui rientrano anche i disturbi, diciamo, dello sviluppo. Quindi, diciamo che da questo punto di vista noi abbiamo una crescita di alcune condizioni che dovrebbero farci pensare che le prospettive di salute, poi, non sono così destinate ad essere ulteriormente migliorate. Se veniamo ai determinanti, invece, i cosiddetti sociali di salute, vediamo che abbiamo, in questo momento, come conseguenza della crisi economica, che probabilmente avrà i suoi effetti ancora per diversi anni a venire, un aumento dei bambini che vivono in condizioni di povertà, che è un fattore di rischio dimostrato. Diciamo che, grosso modo, aumenta la mortalità e una serie di condizioni di almeno il 50%, se non del 100%. Abbiamo un aumento nella proporzione di bambini nati da famiglie emigrate, che di per sé non è una condizione di rischio, però lo diventa, in rapporto ad alcuni paesi di provenienza, lo diventa in rapporto alle condizioni della migrazione, soprattutto rispetto alle condizioni delle politiche di accoglienza, determinando, fra gli altri, e una serie di problemi che non sono quelli a cui tutti noi pensiamo, ma sono soprattutto, ancora una volta, problemi di salute mentale e di adattamento legati alla, diciamo, difficoltà di riconoscere e interpretare la doppia identità, che è quella di partenza e quella del paese ospitante. Ci sono una serie di gap, di bucchi nelle politiche sociali, in particolare quelli che riguardano le donne, che si ripercuotono immediatamente sui bambini, c'è un aumento, come tutti voi sapete, del peso, delle forze di mercato che fanno dell'infanzia un commercio, e su questo l'alimentazione è al centro, credo che qualcun altro ne parlerà, e c'è anche un aumento dell'influenza dei cosiddetti social media, che hanno, a partire soprattutto dai 6, 7, 8 anni di vita, un'influenza crescente su quelli che sono i comportamenti, i comportamenti alimentari, tra l'altro, e molti altri. Di base, c'è un'insicurezza crescente circa il futuro, di cui gli adulti sono consapevoli e i bambini, i ragazzi, sono, posso dire, entro, forse, fine ai 13, 14 anni, non del tutto consapevoli, però sentono il peso di una condizione di incertezza e di un'assenza di prospettive che gli viene loro trasmesse indirettamente attraverso gli adulti. E questa è una delle varie cause che possono portare a condizioni di depressione. Abbiamo imparato molto in questi anni circa i rapporti causali fra determinate esposizioni ambientali e non e le malattie. Abbiamo imparato moltissimo sul fatto che sono le esposizioni molto precoci, quindi durante la gravidanza e i primissimi anni si dice i primi mille giorni che hanno un peso particolarmente importante sul futuro della nostra salute e abbiamo anche imparato quello che ho appena cercato di dirvi molto semplicemente e cioè i determinanti sociali influiscono sulla salute più ancora di quelle che sono l'evoluzione dei servizi e dei trattamenti sanitari. Abbiamo uno sviluppo della medicina predittiva che raggiungerà nel momento in cui tutti noi saremo in grado di fare un'analisi diciamo completa del nostro genoma per poche migliaia di euro forse anche meno avremo uno sviluppo di questa medicina predittiva che porterà però a una serie di inquietanti interrogativi circa la possibilità poi di mettere mano a queste condizioni di rischio che verranno definite abbiamo uno sviluppo esponenziale di le cosiddette farmaci biologici che se è vero che hanno risolto diciamo o quasi molto migliorato le prospettive di alcune patologie hanno una amplificazione in mercato tale per cui vengono continuamente riproposti farmaci di nuova generazione con costi esorbitanti che soprattutto nell'adulto tendono ad avere risultati abbastanza marginali su alcune malattie importanti poi abbiamo un'esplosione di utilizzo diciamo di farmaci estremamente costosi con benefici che a volte sono decisivi a volte però sono marginali poi come dicevo abbiamo lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione che implicano un vociferare una chiacchiera continua sulla salute che evidentemente poi produce anche degli effetti sui comportamenti per quanto riguarda l'ultimo aspetto che è quello delle politiche abbiamo una grande varietà tra stati abbiamo una tendenza accentuata dalle ultime difficoltà economiche ma anche dai dati politici a politiche più restrittive per quanto riguarda le coperture sociali in particolare ancora per quanto riguarda la situazione degli emigranti e abbiamo una serie di buchi come dicevo in particolare nelle politiche di genere che difficilmente verranno colmati in situazioni di rispetto anzi possiamo immaginare che ci sia nell'immediato futuro nel medio futuro una minore copertura del rischio sociale che soprattutto per quanto riguarda le madri e i bambini si traduce poi anche in elementi di salute allora tutto questo mi fa dire ci fa dire con tutte diciamo le cautelle del caso che molto probabilmente il prossimo decade o le prossime due decadi non vedranno un ulteriore miglioramento degli indici di salute intanto la mortalità ma quello diciamo della qualità di vita e della quantità di persone che vivono con un certo grado di disabilità ma più ancora assisteremo a una divaricazione di queste opzioni a seconda del gruppo sociale a cui appartieni per cui sotto queste medie ci sarà una divaricazione diciamo fra ricchi e poveri fra chissà chi non sa fra chi è indigeno e chi è emigrante sarà molto più evidente di quella di adesso quindi il quadro della geografia della salute umana in Europa sarà molto più dispersa e simile a quella di altri continenti di quanto sia stata finora questo è quello che ho sostanzialmente illustrato adesso a voce in questa diapositiva ne concluderei ne concluderei che il tutto dipende abbastanza anche da noi cioè da noi insomma da quelli che governano e ovviamente anche dai cittadini che dovrebbero avere una voce in questo per determinare delle politiche che perlomeno tentino di affrontare alcune delle grandi questioni e alcune dei trend di salute che ho grossomodo illustrato questo grafico abbastanza semplice illustra semplicemente voi vedete diciamo i pallini neri sulla destra sono più bassi e quelli sulla sinistra sono un po' più alti e indicano che man mano che un paese si dà delle politiche sociali abbastanza ampie c'è una corrispondente riduzione della mortalità infantile ma questo non fa altro che confermare quello che ha detto finora e cioè che questi determinanti diciamo sociali che poi sono influenzati dalle politiche di ciascun paese e di quelle dell'Europa messe assieme sono importanti le implicazioni direi che a parte la prima che è abbastanza ovvia che forse più ancora che impostare nuove ricerche su fattori causali si tratta di applicare quello che già sappiamo di renderlo disponibile per tutta la popolazione e questo è un punto particolarmente importante perché si rischia come vi avevo detto una divaricazione fra chi potrà e chi non potrà accedere ad alcuni farmaci molto costosi che diventeranno fuori diciamo dei livelli essenziali di cura quindi saranno disponibili solo per chi se li può permettere c'è da sicuramente aumentare l'attenzione verso le primissime epoche della vita penso che qualcuno ci ritornerà fra poco molto di più di quanto si fa fino adesso in cui diciamo l'idea prevalente è che siccome gravidanza parto infanzia in Italia e in Europa sono una sinecura perché tutto va abbastanza bene non muore più nessuno allora il carico dell'investimento va piuttosto su altri settori della popolazione c'è molto da lavorare sui meccanismi che portano alle disuguaglianze perché come credo di aver cercato di argomentare seppur semplicemente questo sarà uno dei punti fondamentali del futuro cioè che ci saranno gruppi di popolazione piuttosto estesi 10, 15, 20, 25% della popolazione totale che non avrà condizioni diciamo di partenza assimilabili a quelle che abbiamo avuto noi quindi ci sarà una regressione su questo c'è bisogno in particolare di sviluppare l'attenzione su alcuni temi fra quelli che il documento finale che non è ancora pronto ma ormai dice quello che deve dire sostanzialmente di questo nostro progetto fra le tante cose che vengono indicate ce ne sono due che vorrei ricordare qui uno che bisogna investire molto di più sulla ricerca che riguarda la salute mentale come prevenirla come curarla siamo molto più indietro che in molti altri settori della salute e su questo quindi occorre fare di più perché questo è il tema in qualche modo del futuro cioè già attuale e quindi ancora più del futuro c'è la necessità di armonizzare tutti quegli sforzi di costituire come dire una capacità di ricerca basata su dati omogeni raccolti nello stesso modo in tutti i paesi ancora una volta qui l'Europa si dimostra molto molto accorto di politiche comuni cioè non c'è una politica comune di costruire delle capacità di ricerca comuni quindi di mettere in comune le varie grandi risorse che comunque ci sono mentre gli Stati Uniti ad esempio hanno inaugurato il National Children's Study con 100.000 bambini che vengono seguiti per 15 anni in Europa c'è una meriade invece di studi di coorte che adesso un progetto europeo scico sta cercando di mettere assieme però voglio dire siccome sono terogenei quindi hanno basi di dati diversi difficilmente riescono a perdurre lo stesso effetto perché quello lì come dire è una miniera di dati da cui tutti potrebbero attingere sostanzialmente mi fermo qui credo anche di forse rubato troppo tempo e mi scuso di questo grazie ho l'appassionato in social network sono social media sono curiosito a questo punto da sapere come influenzano visto che ha fatto riferimento all'alimentazione come un possibile problema se potremmo dirci qualcosa dunque beh voi sapete probabilmente tu hai dati molto più precisi dei miei di quanta parte dei bambini di otto anni dodici anni sedici anni ogni giorno consultano qualche tipo di social network o in qualche modo sono connessi una parte dei vari discorsi che circolano riguardano una parte non piccola stili di vita o direttamente o indirettamente li influenzano e quindi non c'è il minimo dubbio che tenendo conto poi che i social network non sono così indipendenti come sembrano e sono in qualche modo influenzati dall'industria che ovviamente li utilizza molto più di quando siamo in grado di utilizzarli noi nella comunità cosiddetta scientifica e quindi di fatto credo che si siano amplificate da una parte le libertà di sapere e in parte anche la libertà di essere cioè l'obbligo di essere influenzati nei propri comportamenti in maniera molto pervasiva perché oltre alla tv ci sono anche una serie di altre cose questo è un po' il sugo della questione dati precisi su questa influenza non te li so citare ma esiste qualche studio che dimostra che man mano che tu è stato esposto a eccetera hai modificato questo è quel comportamento fra cui anche quelli alimentari c'è qualche domanda dal pubblico? Lì è particolarmente incuriosita dalla sua osservazione che gli aspetti dei disordini della personalità hanno un impatto così forte ed è un'osservazione molto interessante soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni le grandi industrie nazionali farmaceutiche stanno abbandonando tutti gli studi sono tutti i periodi e tutti i grossi successi che hanno avuto scoprire nuovi farmaci quello che mi sembra è che in realtà la Commissione Europea non stia tenendo molto per sviluppare la ricerca in quest'area c'è qualcosa forse indirizzata specificatamente ai disturbi alimentari di origine psichiatrica ma sulla psichiatria in generale c'è molto poco e forse è proprio questo canale che andrebbe sfruttato e sensibilizzato per cercare di far nascere iniziative come quelle che stiamo discutendo oggi per promuovere la ricerca anche in quest'area sono assolutamente d'accordo il fatto che si sia indicata quest'area come una priorità di ricerca per il futuro deriva da due considerazioni primo che il problema c'è ed è emergente è crescente e l'altro che non si è fatta abbastanza ricerca e quindi navighiamo abbastanza nel buio circa ancora trattamenti e prevenzione sulla prevenzione sono state fatte affermazioni di principio e ci sono alcuni sviluppi molto interessanti che riguardano appunto cosa si fa nei primissimi anni di vita però adesso questo non voglio entrare però lì è un filone che potrebbe portare alcune però ci vogliono investimenti e gli investimenti sulla prevenzione sono difficilmente ottenibili perché le multinazionali non investono se non su diagnostica e trattamento e quindi questo dovrebbe essere un impegno pubblico ci sono delle aree che o le copre il pubblico o non vengono coperte perché non portano a profitti quindi sono assolutamente d'accordo che questa sia e questa sarà una delle raccomandazioni finali insieme a quella sulla capacità europea che era una capacità europea di ricerca adesso non mi spingo a dire che siano che saranno le due raccomandazioni numero uno numero due ma probabilmente ci saremo vicini c'è ancora una domanda la domanda è corretta e infatti ce la siamo posta purtroppo senza essere in grado di dare una risposta precisa anche perché i dati che vengono da diversi paesi sono così eterogenei e così minuti per cui uno fa lo studio a Malmo quell'altro lo fa a Canicati e non si riesce a mettere assieme i dati per avere delle risposte che richiedono un numero un po' più grandi certamente c'è stato un aumento delle diagnosi tu hai citato disturbi di rapprendimento ma anche tutta l'area delle sindrome diciamo autistiche o simile hanno avuto un esponenziale aumento delle diagnosi per cui adesso siamo a 1 a 100 praticamente però oltre a questo e già diciamo tenuto conto di questo c'è un aumento degli aspetti diciamo di psichiatria dell'infanzia dell'adolescenza non tanto anoressia e bulimia che sono già aumentati per conto loro quanto degli aspetti di non so depressione disturbi bipolari tutto questo aspetto che varia tra l'altro in cui le nomenclature sono anche continuamente contestate non abbiamo neanche chiarezza di dove comincia una cosa finisce l'altra siamo veramente molto indietro su questo ci sono come sai non dico dieci ma cento scuole sul trattamento recupero la psicoterapia e molto poco bene grazie a tutti